Oh, sono gioia e rabbia! Ti amo, tesoro! Il loro misuratore dell'amore è fuori scala! La coppia aspetta un bambino! Yeah, diventerò papà! Indovina quale emozione c'è nel pancione! Lascia la tua risposta nei commenti! Lo scopriremo presto! Vieni in laboratorio! Magia di Lali Lu! Ingrandisci! Pitture! Voglio quella rosa! Una nuova acconciatura! Pulisci il viso! Occhi luminosi! Voilà! Aggiungi un cuoricino! Il mio nome è amore! Mamma e papà stanno litigando! Ne ho avuto abbastanza! Sono stufa! Per me va bene! Mamma, papà, cosa c'è? Non ci parleremo più! Cosa? Perché? Mamma! È una testa calda! Posso sistemare tutto! Tieni, papà! A cosa serve? Credimi! Sa quello che faccio? Mi dispiace, amore mio! Oh, dispiace anche a me, caro! Per te! Che bella! Amore, ci hai riuniti! Chi ha voglia di fare una passeggiata? Ottima idea! Che posto accogliente! È divertente! Vado a prendere qualche dolcetto! Un saliscendi! Voglio andarci! Ti aiuterò! Salta su! Più in alto, papà! Oh no! Ti prendo! Uh! Cosa ne pensi della bici? Stai attenta! Va bene, papà! Stai andando alla grande! Yee! Continua così! Yee! Chi vuole dello zucchero pilato? Ops! Mi dispiace, è stato un incidente! Oh, state bene? Stiamo bene! Pulirò tutto! Andiamo a casa? Sì! Chi è? Un dolce gattino! Vieni con noi! Ti ripuliamo! Perfetto! Il rosa è fantastico! Dipingi gli occhi! Spennella! Un cuore! Un fiocco! Questo è Valentino! Il gattino perfetto per amore! Da dove viene quel suono? Wow, quanti amici pelosi! Ciao! Vi sentite soli? Seguitemi, gattini! Da questa parte! Questa è la vostra nuova casa! Fate silenzio! Papà sta dormendo! Potrebbe arrabbiarsi! Valentino vuole giocare! Cosa sta succedendo? Ah! Da dove vengono tutti questi animali? Ciao! Oh no! Ci è spaventato! Chi li ha fatti entrare? Ma quanti sono? Sì! Sì! Papà, sono i miei nuovi amici! E cosa ci fanno qui? Sono venuti a salutare! Sono allergico! Cos'è tutto questo rumore? Oh! Rabbia! Oh tesoro, aiutami! Vuoi un fazzoletto? Sì! Wow! Avrà una sorella! Lo scopriremo presto! 9-1-1-1! What's your emergency? Venite presto! Hey! Via all'ospedale! Lalilu, abbiamo bisogno del tuo aiuto! Hey! Wow! Che abbiamo qui? Nuovo colore di capelli! Dipingi! Occhi viola! Pannolino abbinato! Prendi un po' di feltro! Posiziona la bambina! Aggiungi una gemma! Questa piccola è irrequieta! La piccola depressione è pronta a incontrare la mamma! La mia piccola! Papà e sorella maggiore stanno aspettando! Spero che sia un maschio! Vado a controllare la mamma! Penso che siano qui! Non riesco a vedere! Amore, aspetta! Dobbiamo essere pazienti! Ma quando usciranno? Sediamoci un po'! Cos'è? Un gatto! Ti aiuto! Ora potete entrare! È ora! Andiamo, miei cari! Congratulazioni, è una femminuccia! Cosa? Una figlia? È un miracolo! Volevo un figlio! E calmati! E sono così felice! Oh beh, vieni qui piccola! Ti voglio bene, depressione! Posso darle da mangiare? Mangia, sorella! Le mie dolci, ragazze! È ora di tornare a casa! E siamo di nuovo tutti insieme! Ora dobbiamo solo saldare il conto! Ecco la fattura! Un milione di lali dollari! Per rapina! Conta fino a dieci! Paghiamo in contatto! Oh cavolo! Papà è tornato! Il tempo vola! Amore ormai è un adolescente! Aggiungi le stelle! Prendi il tessuto! Voilà! Cucci! Mettile la giacca! Una gonna elegante! Decora con un cuore! E i capelli? Usiamo una piastra! Bellissimi! Exo, exo, Lalilu! Sorella, cosa c'è che non va? Niente! Puoi giocare? Troppo noioso! Che ne dici di disegnare? No, voglio solo stare sdraiata! Cosa c'è che non va? Sono pigra! Lasciami in pace! Va bene! Se n'è andata finalmente! È ora di nascondersi! Non mi troverà qui! Oh no! Dov'è a depressione? Sotto al tavolo no? Dietro al divano no? Vieni con me! Oh no! Abbiamo bisogno di un monopattino! Ridipingilo di blu! Attacchi inferiori! Fate largo! Cambia il colore! Aggiungi le ruote! Gomma piuma glitterata! Prepara delle cannucce! Adesso il manubrio! Fissalo! Decora con il fuoco! Chi lo guiderà per prima? Siamo qui! E adesso cosa facciamo? Guarda, è un monopattino! Puoi guidarlo! Yeee! Non è divertente! Vedi? Sì, sì! Puoi provare? Guarda, è un trampolino! Lo adoro! Li unisci a me? Niente di che! Posso saltare ancora più in alto! Che noia! Mi arrendo! Cosa? Uhu! Ops! Ah! Cosa? Applausi? Grazie! Chi è? Luke è un grande ballerino! Un bacio per le signorine! Wow, è così cool! Sta arrivando! Vuoi uscire con me? Sì! Oh no! Non questo! Realizziamo delle cuffie! Taglia con un taglierino! Rimuovi l'eccesso! Voilà! Prendi della gomma piuma! Taglia una striscia! Attaccala sopra! Gomma piuma rossa! Perfetto! Intreccia il filo di ciniglia! Collega le parti! Decora con le gemme! Avvicineranno Amore e Luke! È ora di andare d'amore! Oh Luke, sei già qui! Senti questa canzone! Vuoi ballare? Sì! È troppo rumoroso! Questa è la mia canzone preferita! Ehi, potete abbassare! Non siete gli unici in casa! Cosa? Non sento! Ho le mie orecchie! Ho una soluzione! Così non disturberemo nessuno! Sei fantastico Luke! Finalmente! Il suono è fantastico! Perfetto! Adesso possiamo ascoltare a tutto volume! E ballare quanto vogliamo! Oh ecco la mia parte preferita! E la batteria! Il metro dell'amore sta salendo! Insieme per sempre! Non vedo l'ora di crescere! Lali Lu ti aiuterà! È tempo di rinnovare il look! Cambia il colore degli occhi! Perfetto! Prendi il tessuto! Posiziona il modello! Cucci! Provalo! Fai delle pieghe! Taglia! Vesti la bambola! Wow! Un cuore! Aggiungi un colletto! Scegli una gemma! Perfetta! Le nuove scarpe! Amore è cresciuta! Wow! Sono bellissima! Brava Lali Lu! Grazie! Ho un appuntamento! Depressione! Cosa fai? Niente! Lasciami in pace! Luke sta arrivando! Non di nuovo! Aiutami a prepararmi! Va bene! Sei la miglior sorella! Sei troppo vicina! Prepariamo dei fiori! Palloncini! Gelato! Manca qualcosa! Il mio candeliere preferito! Non è un po' cupo? Non sei mai contenta! Depressione può essere una tale... Il mio divano preferito! Mi piaceranno i libri? Non credo! Oh no! È Luke! Fattene! Saresti d'intralcio! È sempre così! Ciao tesoro! Wow! Sono per me! Grazie! Cosa hai in mente depressione? Andiamo al cinema domani! Mi piacerebbe! Per la prima? Ciao Luke! Bobbo! Vuoi ascoltare la mia nuova canzone? Sotto la pioggia sto camminando! Dolore nel cuore! Mi sto deprimendo! Hai talento! Non mi sento bene! Davvero? Ti è piaciuta? Sta succedendo qualcosa! La mia pancia sta crescendo! Avremo un bambino! What? Lo scopriremo presto! Prendi una sfera LOL! Oh è una bambina! Ridipingi i capelli! Disegna gli occhi! Aggiungi un po' di glitter! Woo! Prendi la gomma piuma! Perfetto! Un dolce colletto! Sono qui per la bambina! Ecco qui! Grazie Lali Lou! Consegna! Per voi! È così carina! Una vera bellezza! Grazie! Buona fortuna! Il nostro angioletto! Dobbiamo andare a fare shopping? Un'altra giornata noiosa! Puoi badare alla bambina? Posso dire di no? Non ci metteremo molto! Cosa dovrei fare con te? Ah! Le palline! Sembra che si stia divertendo! Oh no! Che casino! E adesso? Hai fame? Prendersi cura di un bambino è un grande lavoro! Vuoi delle carote? I suoi denti non sono ancora pronti! Allora cosa vuoi? Che ne dici di una favola? C'era una volta in un regno lontano! Depressione si sta addormentando! Ora la bambina può scappare! Oh! Dove stai andando? Piccola invidia è qui per vedere i suoi genitori! Eccola la mia bambina! Più in alto! Più in alto! Oh piccola peste! Attenta! Che bicicletta! Fammi vedere! Fammi vedere! Fantastico! Mom! Hey mom! Cosa c'è tesoro? Ne voglio una anch'io! Tesoro la bambina vuole una bici! Ok! Ecco qua! Invidia impara ad andare in bici! Ecco fatto! Attento! Oh! Mi sono fatta male! Non è niente! Premi like se anche tu sei caduto in bici! Oh è così carino! Miccio dove sei? Mami! Poggi! Cerchiamolo insieme! Dove si nasconde il gattino? Scrivilo nei commenti! Uno, due o tre! Eccolo! Tesoro va tutto bene? Sì è solo che il bambino scalcia! È ora di andare a casa! Ritaglia! Piega lungo le linee! Riempi di carta! Metti insieme il sonaglino! Un'ecografia! Che sorpresa! Buon compleanno tesoro! I bambini emozioni sono qui per fare gli auguri e invidia! Quanti regali! Cos'è questo? Che bel regalo! Voglio aprirlo! Wow! Il miccio è la star della pista da ballo! Che divertimento! Ops! E volo via! Bam! Ho il mio regalo! È la nostra sorpresa! Cosa c'è dentro? Oh cos'è? Avrai una sorellina! Presto! Non ne voglio una! Ma come? Tesoro, cosa c'è? Oh my gosh! Oh, serve un'ambulanza! Subito! Prendi il velluto a coste! Traccia il modello! Ritaglia con le forbici! Cuci! Fodera bianca! Gomma piuma glitterata! È una cravatta! È una cravatta! Disegna gli zig zag! Decora con il pizzo! Ha tanto attesa bambina rabbia! Oh che bambina carina! Mi assomiglia! Mi assomiglia! Oh tesoro mio! Papà ti vuole bene! Grazie per questa figlia tesoro! Sono così felice! Ehi e io! Voglio giocare così anch'io! Ragazze, calmatevi! Tesoro, non scaldarti! Rilassati! Tesoro, non piangere! Le dimissioni! Finalmente a casa! La piscina di palline! Uhuh! Divertente! Wow, che castello! Perché ho solo un giocattolo? Li voglio tutti! Cosa sta succedendo? È ora di rinfrescarsi un po'? Devi condividere con tua sorella, tesoro! Riusciranno a diventare amiche? Eh, non è facile con due bambine! È tempo di crescere! Più cinque anni! Crea un nuovo look! Elimina l'eccesso! Nuovo viso! Quale costume sarebbe meglio per rabbia? Scrivi il numero nei commenti! Questo! Great! È ora di fare la birichina! Cosa ci fa la sorellina lassù? Ascolta la musica! Bam! Oh, cos'è? Devo averlo immaginato! Devo attirare la tua attenzione! Bam! Bam! Oh my gosh! Rabbia, cosa hai fatto? Perché? Voglio giocare a uno! No, sono occupata! Devo mettermi al computer! Bene, prendi questo! Ah sì? Butto via il tuo gioco! No, il mio uno! Ragazze, cos'è questo rumore? Oh my gosh! Che casino! Dieci anni senza cartoni e caramelle! Ripulite! Cosa? No! Eh, dovrete ripulire! Oh, è il gioco di rabbia! Ho cambiato idea! Giochiamo! Giocare insieme è divertente! Yay! Ho vinto! Edoro, calmati! Andiamo in piscina! Divertitevi ragazze! Possiamo rilassarci e prendere il sole! La piccola rabbia ha un fantastico salvagente! Wow, anch'io voglio qualcosa di divertente! Prendi una pipetta! Riempila di glitter! Disegna i modelli! Il grilletto è pronto! Pistola ad acqua carica! Grazie, Lalilu! Guarda cos'è! Wow, cos'è? Una pistola ad acqua! Oh, bella! Papà, mani in alto! Oh, acqua! Ma che diavolo è? Papà, calmati! Penso di aver bisogno di un ombrello! Tesoro, calmati! Così va meglio! Thank you! Chi sarà il prossimo a bagnarsi? La voglio io! Fammi giocare, fammi giocare! No! Dai! Ops! Il controller della macchina della schiuma! Oh no! Wow, quanta schiuma! Che festa! Cosa sta succedendo? Divertiti e basta, tesoro! La schiuma è così divertente! Peccato che non si possa giocare per sempre! Invidia è cresciuta! Un po' di trucco! Nuovo taglio di capelli! Metti degli orecchini! È ora di vestirsi! Aggiungi le maniche! E un colletto! Wow, grazie! Ehi, sorella! Vieni! Una macchina! Chi è quel bell'uomo al volante? La collisione non può essere evitata! No! Ti aiuterò! E vai! La vecchia signora è salva! Gira il volante! Che colpo di scena! Ragazza, questo è per te! Grazie! È scandaloso! L'auto è riuscita a girarsi! Stai bene? Wow, che bellezza! Grazie per la rosa! Ho preso due biglietti per le Maldive! Vieni con me? E io? Tutte le cose divertenti di nuovo senza di me! Ciao, ciao! Facciamo una valigia! Copri la valigia con l'acrilico! Ripassa con un rullo! Gomma piuma glitterata! Avvolgi la valigia! Un po' di magia! Grazie! Tesoro, è ora di fare le valigie! Comincio io! Bene, vediamo! Cosa prendo? Prendo tutto! Oh! Li prendo io! Non si chiude! Dai, dai! Lascia che ti aiuti! Grazie! Oh, è un sacco di roba! Grazie, tesoro! Oh, c'è qualcuno al telefono! Ho un piano! Via tutte le cose! Qualcuno ha deciso di partire senza biglietto! È ora di andare all'aeroporto! Andiamo! Oh, che fila! La valigia è un po' pesante! Sprigati, siamo in ritardo! Ecco i nostri biglietti! Prego! Evviva, partiamo in viaggio! È bellissimo qui! Oh, la valigia si sta muovendo! Che cos'è? Sono io! Come sei arrivata qui? Sorella, sono così felice! Mi vuoi sposare? What? Sì! Ehi, ho una sorpresa per te! Lalilu, ehi, mi sto per sposare! Ti aiutiamo con il look! Uno, due, tre! Consegna alla sarta! Fucci! Il velo è pronto! Provalo! Non dimenticare il bouquet! Mi accompagnerai all'altare! Ma certo! Buona fortuna! Sono qui! Oh, che bellezza! Quanto sono fortunato! Sono tutti super felici! Dai, cominciamo! Oh, sono così emozionata! Oh, my gosh! Stai bene! Non mi sposerò mai! Oh, non mi piacciono i matrimoni! Iniziamo! Volete diventare marito e moglie? Sì! Sì! Germi! È così commovente! È ora di lanciare il bouquet? Non sono mai fortunata! E se i fiori fossero sporchi? Così va meglio! Oh, e se mi colpisse in testa! Tristezza, dove sei? Tutte devono provare a prendere il bouquet! Siete pronte? Uno, due, tre! Chi prenderà il bouquet? Tristezza! Oh, my gosh! Oh, sono così felice! Congratulazioni! Posso chiederti di uscire? Sì, andiamo! Sono così felice per lei! Sì! Gioia e furia tornano a casa! Ora possiamo riposarci! Voglio qualcosa di buono! Lo porto subito, tesoro! Ok! Ecco qui! Wow! Un cornetto! Yummy! Oh, la mia pancia! Come stai? Ho fatto un test! Avremo un'altra bambina! Yippee! Ansia diventerà una sorella maggiore! Prendi una bambola! Lavali la faccia! Excellent! Disegna le sopracciglia! Occhi espressivi! E capelli! Presto i capelli finti! Good! Decora con un nastro! Abbiamo bisogno della lacca per capelli! E il vestito? Prendi le misure! Taglia con attenzione! Ora è un top a collo alto! Disegna le strisce! Ora i pantaloni! Voilà! Stringi la cintura! Grazie, Lalilu! Mamma, papà! Mi sentite? Come sta la nostra piccola? Non mi notano! Vogliono più bene a mia sorella che a me! Mamma, papà! Non avete più bisogno di me! Non ora, tesoro! Povera ansia! Non mi amano! Tesoro, cosa c'è che non va? Vieni qui! Mamma e papà sono qui! Passavate più tempo con me! Perdonaci! Ma bisogna di più attenzioni! Tesoro, non piangere! Papà è qui! Ti vogliamo bene! Di nuovo! Oh, sta iniziando! Urgente! Abbiamo bisogno di un medico! Sono qui! Devi andare in ospedale! Come stai? Ho la mia pancia! Lalilu, abbiamo bisogno di aiuto! Al lavoro! Vieni qui, piccola! Accelera il tempo! Lava via l'eccesso! Disegna gli occhi! Pittura verde! Aggiungi le ciglia! Scegli i brillantini! Wee, glitter! Voglio un vestito! Cosa scegliere? Questo no! Questo! Prova il vestito! Ed ecco la piccola disgusto! O la nostra dolce bambina! È ora di andare a casa! Tutta la famiglia è insieme! Oh, sei una meraviglia! Non si preoccupano più di me! C'è solo un'opzione rimasta! Caro diario! Odio mia sorella! O solo tu mi capisci, Fluffy! Buonanotte, ragazze! È ora di dormire! Dormire? Adesso posso giocare! Mamma! Cos'è successo? Oh, quanta spazzatura! Chi è stato? Ansia! Sei in punizione! Pronto a calappiagatti? Sono qui! Eccolo! Papà! No, lascialo andare! Mi dispiace, è il mio lavoro! Ha preso il mio unico amico! Vai nella tua stanza! Lali Lou, presto sarà il mio compleanno! È ora di prepararsi! Stendi la gomma a piuma! Asciugati le lacrime! Disegna il modello! Zac-zac con le forbici! Aggiungi una stampa! Assembla il cappellino da festa! Scrivi nei commenti cosa c'è nella scatola! Sono Pompon! Incolla lì sopra! Prova il tuo outfit da festa! Grazie! È il mio compleanno! Ma dove sono tutti? Sorpresa! Grazie, siete migliori! Chuck, sono felice di vederti! E io sono felice di vedere te! Cappellino da festa! Grazie, Ansia! È ora dei regali! Tutto questo è per me! Giochiamo a Jenga! Che noia! Cambiamo tono! Alziamo la musica! Perché nessuno balla? È fantastica! Dove andate? Ehi, bella! Puoi andare al cinema? Wow! Wow, un fiore! La sorellina ha messo in ombra la festeggiata! E io! Oh, tesoro! Non piangere! Ti vogliamo bene! Sembra che solo i dolci possano tirarti su di morale! Lali e Lu, cosa ne pensi? Prendi una scatola! Prendi dell'argilla leggera! Stendi l'impasto! Voilà! Tagli a strisce! La cannella! Cospargila sopra! Arrotola! Perfetto! Fai rosolare un po'! Copri con la glassa! Aggiungi il cioccolato sopra! Possiamo prenderli? Ecco! Una sorpresa per nostra figlia! Ansia! Guarda cos'ha! Non toccarmi! Ma sono i tuoi preferiti! Li ho quasi perdonato! Divertiti! Perché è tutto per lei! La mamma ti sta chiamando! Non toccare niente! Prenditi il tuo tempo! Gnammi! Hai mangiato tutto! Erano deliziosi! L'ultimo pezzo! Ma almeno è rimasto qualcosa! Cosa sta succedendo qui? Hai condiviso con tua sorella? No! Ma come hai potuto? Non mi hai dato niente! Ansia! Dammelo! Ma non è vero! Mangio, tesoro! Thank you! Ecco altri snack! Wow! E tu pulisci! Perché io? Non sono riuscita nemmeno ad assaggiarli! È tutta colpa tua! Basta! Scappo di casa! La Lilloo ha bisogno di una valigia! Prendi un contenitore! Rimuovi la piastra! Dipingi la custodia! Attacca le cinghie! Mezze perle! Decora con gli adesivi! Prendi ansia! Ora posso fare le valigie! Attenzione, per favore! Sei così carina, piccola! No, di nuovo! Non hanno bisogno di me! Imballiamo tutto! L'essenziale! Oh, dov'è? Papà, spostati! Vai da qualche parte? Me ne vado! Ok! Saluta tutti! Non si torna indietro! Non voglio restare! Dai! Vivrò qui! Il cassonetto non è poi così male! Oh, che cos'è? Ho paura! Fluffy! Non sono così felice! Ora non sono sola! Ma mi brontola lo stomaco! Posso avere un panino? Hai soldi? Aha! Appena sfornato! Oh, anche tu hai fame! Il gattino non ha da mangiare! Mangia! Penserò qualcosa! So dove trovare i soldi! Lalilu! Magia di Lalilu! Taglia l'eccesso! Copri con la gomma a fiuma! Disegna i fiori! Fiocco! Prova il cappello! Ed ecco il cartello! Diventeremo ricchi! Pronto, Fluffy! Foto con gattino! Un dollaro! Bacio al gattino! Cento dollari! Carino! Voglio le foto! Quanti soldi! Sorridi! E così! Ecco le tue foto! Fantastico! Voglio farle anch'io! Wow! Pioggia di soldi! Adesso qualche bacio! Ottimo lavoro! Tesoro, guarda! Sembri nostra figlia! Papà, sono io! Oh, non ce ne siamo nemmeno accorti! Perché piangi? Voglio una bicicletta! Oh, te la compreremo, tesoro! Ma ma li ho guadagnati io! Non è giusto! Devi condividere! Andiamo al negozio! Oggi esce Inside Out! Nice! Ci servono i biglietti per la prima! Dovete andarci assolutamente! Trasforma il poster in una scatola! Trova un tappo! Scegli la pittura! Spennella! In cucina! Prendi del mais! Ecco i popcorn! Riempi il secchiello! Magia di Lalilu! Ritaglia con attenzione! Non faremo tardi! Lo spettacolo è di sera! E i popcorn? Abbiamo tutto sotto controllo! Ecco qui! Le ragazze saranno entusiaste! Ho una sorpresa! Biglietti per il cinema! Ecco! Andiamo! Non voglio! Sono sconvolta! Sei sicura? Sì! Sembrano proprio come noi! Inside Out! Perché non l'hai detto prima? Sbrigiamoci! Sì! Sono così felice! Posso entrare per prima? Wow! Assomigliate! Capita! Sembra che qualcuno non verrà! Il mio biglietto! Vediamo! Non puoi entrare! Vedi il cartello? Vietato! Voglio andare al cinema! Risolveremo tutto! Voglio vedere il film! Aspetta qui! Non piangere, tesoro! Il cartone sta per iniziare! Diamo una sbirciatina! Ecco i nostri posti! Godetevi lo spettacolo! Sta iniziando! Ma ansia? È tutta sola! Non l'abbiamo notata affatto! Povera ansia! Dobbiamo cambiare le cose! Perdonaci, tesoro! Non lo farò più! Ti vogliamo bene! Ho un'idea! Torna subito! Nalilu, abbiamo bisogno di un set artistico! Inizia con i glitter! Taglia i contenitori! Prepara le pitture! Riempi le boccette! Zac-zac! Imballa in una scatola! Rullo incluso! Prepara il cavalletto! Scrivi! Tesoro, prendilo! Ha una sorpresa! Per tutta la famiglia! Bel lavoro, tesoro! È così carino! Chiamo ansia! Figlia, guarda! È bellissimo! Ho lavorato sodo! Vuoi provare prima tu? Io! Ti aiuto! Mamma, papà, guardate! Bellissimo! Anche io! Lo facciamo insieme? Ottimo lavoro! Papà, tocca a te! Sono pronto! È una missione speciale! Fantastico! Vi piace? È fantastico, tesoro! Sostituiamo il ritratto! Molto meglio! Siamo tutti insieme! È ora di andare a scuola! Mi mancherete! Andiamo, tesoro! Vi presento la vostra nuova compagna di classe! Ciao, sono ansia! Oh, è così bella! Ciao! Benvenuta, sono Joy! E lui è il mio ragazzo! Oh, piacere di conoscerti! Ho una cosa per te! Grazie! Oh, oh! Lali Lou! Oh, presa! È ora di rinnovare il look! Disegna gli occhi! Iri di blu! Che sguardo espressivo! Serve una nuova acconciatura! Tessuto giallo! Luminoso! Taglia un vestito! Decoralo con i fiori! Provalo! Colora le scarpe! Ora sono pronta! Devo trovare rabbia! Voglio rendere felice e ansia! Non vedo l'ora di mostrargliela! Le farò una sorpresa! Assolutamente no! Ho un piano! Così va meglio! Tesoro, pronta? Oh! Cosa c'è? Guarda! Questa è la tua sorpresa! Gioia! Sono stato incastrato! Rabbia, ma io ti amo! Vai via! Lui ama me! Ma... Addio! Com'è possibile? Perché? Mi dispiace, amore! Non voglio vederti mai più! Deve perdonarmi! Oh, Lalilu, aiutami con il regalo! Prendi della gomma a piuma! Piega! Scegli una cannuccia! Taglia un pezzo! Inserisci il pezzo! Si apre! Riempi con la colla a caldo! Scegli una perla! Proprio quello di cui hai bisogno! Il ventaglio ti aiuterà a rinfrescarti! Grazie! Anch'io voglio essere trattata come una principessa! Tesoro, guarda! È un ventaglio! Non mi piace! Voglio un altro regalo! Tutto quello che vuoi! Qualcosa andrà bene! Tutto per te! Per rinfrescarti! Voglio mangiare! Ma non quello! Rabbia! Cosa hai intenzione di fare? Andiamo al McDonald's! Sì, io mi sento molto meglio! Pronta? Sì! Siamo arrivati! È stato un gioco da ragazzi! Stanno ancora insieme! Mi brontella lo stomaco! Cameriera! Questa è la mia occasione! Ciao, sono la nuova cameriera! Dov'è la tua uniforme? Ops! Questa è la mia occasione di fare? Questa è la mia occasione di fare? Questa è la mia occasione di fare?